La merla La merla iniziò a prendersi gioco di gennaio Allora il mese si arrabbiò e decise di chiedere tre giorni in prestito a febbraio, all'epoca gennaio durava 28 giorni, per far abbattere sulla terra un'ondata di freddo e gelo E così, con l'arrivo della bufera di neve, la merla cercò riparo in un caminetto Alla fine riuscì a salvarsi dal gelido e arrabbiatissimo mese di gennaio, ma le sue piume diventarono nere Fortuna che le previsioni meteo non sono così funeste anche se c'è poco da sorridere Il primo vero peggioramento, secondo gli esperti del meteo arriverà domani sera, martedì 29 gennaio, quando dalla Francia una perturbazione, seguita aria fredda, causerà, dalla tarda sera, nevicate deboli su Valle d'Aosta dai 300 metri Fiocchi anche su Piemonte, Lombardia occidentale e colline emiliane oltre i 350 metri, pochi centimetri Le giornate peggiori però saranno quelle di mercoledì e giovedì, 30-31 gennaio, specie al centro-nord che vivrà un big smo con accumuli importanti anche al piano Difatti, mercoledì mattina prevediamo copiosi centimetri a 0 metri su Valle d'Aosta, Piemonte, Neve a Torino, Cuneo, Verbagna, Vercelli e Alessandria tra 5 e 9 centimetri Previste in biancate corpose, dal pomeriggio, in Lombardia, Como, Cremona, Lodi, Milano, Varese, Monza, Lodi, qui intense fino a 15 centimetri La dama bianca bacerà a più riprese l'Emilia Romagna, Piacenza, Parma, poi giovedì anche Bologna Punto a quote di collina invece in Toscana, dai 250 metri, Triveneto, Pioggia ghiacciata a Venezia, Trentino e Friuli-Venezia-Giulia Nella notte tra mercoledì e la giornata successiva ancora fiocchi bianchi abbondanti su Lombardia, Bassa, Emilia-Romagna, Colline Toscane Giovedì previste schiarite al mattino al nord-ovest, cieli nuvolosi su tutte le regioni del nord-est con qualche fiocco a quote pianeggianti Dalla serata un nuovo impulso freddo porterà altre abbondanti nevicate in pianura su tutte le regioni nord-occidentali, Toscana, settori interni, Emilia-Romagna, Appennino Centrale, Lazio, Marche e Abruzzo Continuerà a nevicare, a tratti, venerdì. Seguite i nostri continui aggiornamenti